Io non sono qui a cercare una poltroncina per un amico. Cara Barbara. No, secondo me ha fatto una voce. Allora sai, ho un guacquara qua. E' colpa anche questa, di conto. Prego applausi. Eeeh, così ne sia. Noi abbiamo un pool di esperti. Lei si è portato a casa 60 milioni di dollari. Good morning Vietnam! Buonasera amici di Primo Canale, Good Morning Vietnam. Daniele Racco ancora una volta con voi. Partiamo subito. A Washington migliaia di sostenitori di Trump sfilano per le vie della città. Molti senza mascherina. E quasi tutti senza cappuccio. Quindi stavolta non usiamo i sacchetti. Ma la prossima facciamo i buchi come Dio comanda e ci presentiamo in pompa magna. Stati generali del Movimento 5 Stelle, Di Battista detta le sue regole. Prima regola del Fight Club. Non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club. Non dovete parlare mai del Fight Club. Tre, che venga scritto nero su bianco che non vi sarà nessuna deroga al doppio mandato. Deci anno mai mandato. E intanto Zucatelli si è dimesso dalla carica di commissario alla sanità della regione Calabria. Ne ho anche 20 minuti! Al suo posto è stato nominato Gaudio, che però ha rinunciato all'incarico dopo poche ore. Sarai bollato nella schiena col marchio dei vigliacchi. Senza bollo, carta libera. Gino Strada sembra l'unica soluzione rimasta. Anche perché è l'unico medico che ha già lavorato in zone di guerra. Chiudiamo con una piccola curiosità. Il dizionario Williams decreta che la parola più usata del 2020 è lockdown. Ma solo perché le bestemmie sono fuori gara. Finisce qui Good Morning Vietnam, la mia personalissima rassegna stampa sul primo canale. Io vi ringrazio per l'affetto e vi invito a indossare sempre e comunque la mascherina e a mantenere una certa distanza dalle persone. Che per noi riguri è una cosa normale.